Benvenuti a Las Vegas, anteprima di Acer, nuovi Timeline X, cambia il design, cambia il colore, un bellissimo effetto alluminio spazzolato, cover completamente in metallo come anche la back cover, 14 pollici, 15.6, optical device, un prodotto estremamente completo anche in termini di porte, notebook giusto per chi vuole avere il massimo in termini di prestazioni per tutto il giorno, l'avvio avete visto immediato, riprende la stand by in pochissimi secondi, 8 ore di durata come tutti quanti i Timeline X, anche per la versione da 15.6, prodotto estremamente pulito, leggero, design anche dello schermo permette di avere un bordo molto ridotto, questo significa una superficie totale leggermente inferiore rispetto ai normali 15.6, vedete poi anche in termini di spessore, è uno spessore da record per un prodotto che ha un optical device, 15.6 anche qui, varie USB tra cui anche le 3.0, HDMI, connettività di rete, chiaramente il Kensington.